Neve freddo intenso, sarà un febbraio corto ma maledetto quello che ci attende. Almeno, da retta ai meteorologi, torneranno i fiochi bianchi e le temperature sono destinate ad abbassarsi in modo deciso. Osservando le previsioni a lungo termine, diffuse da Arpa Emilia Romagna, la colonina di Mercurio sulla nostra regione sarà inferiore alla media, almeno fino ai primi giorni di marzo. Ma guardiamoci attorno. La neve tornerà giovedì con una quota iniziale di 400 metri, ma potrebbe anche spingersi fino alla pianura, risparmiando però la costa della Romagna. Si tratterà di una nevicata più insistente. Nel riminese, sui 200-300 metri, si dovrebbero registrare accumuli di 25-30 centimetri. Dopo una breve pausa, sabato e domenica, sono attese nuove precipitazioni, probabilmente di debole entità, in questo caso per la prossima settimana. Tra lunedì notte e martedì, per i meteorologi di Arpa Emilia Romagna, potrebbe materializzarsi la nevicata più importante dell'inverno 2012-2013, con i fiochi bianchi, destinati a spuntare anche a Rimini e sulla costa. Febbraio corto ma freddo e rigido, dunque, perché dopo una breve pausa delle precipitazioni ci sarà un peggioramento nel weekend successivo, con nevicate possibili che potrebbero ripresentarsi anche nei primi giorni della settimana successiva. Ma in questo caso saranno soprattutto le località dell'entroterra a registrare le maggiori difficoltà.